poi un bel processo per vivere dalla regione oppure per mancata svolta a destra e sinistra mancata la celebrazione del 21 marzo per mancato raggiungimento del quorum delle quote millesimali lui in via monterone ha lasciato un bauro interno di manoscritti il seguito come sempre succedeva come sempre succederà dei debiti e su questo si interrogano gli storici no si interrogano gli storici ci interroghiamo noi ma anche no